amici di youtube ben trovati da marco liguori è morto nelle scorse ore il noto musicista grave lutto per la musica mondiale prima di sapere di più vi ricordo che a 400 like pubblicherò immediatamente un nuovo video in questo video parliamo di un decesso il primo del mese di aprile 2024 con un grande rammarico che il primo di marco liguori annuncia la dipartita del grande bassista chris cross vero nome chris allen ha reso grande il gruppo degli ultravox un gruppo che ha avuto un grande successo soprattutto negli anni 80 e negli anni 90 il noto bassista e mancato all'età di 71 anni ha dato un grande contributo al successo del gruppo grazie alle sue linee di basso perfettamente inserite nelle tessiture elettroniche del tastierista billy carrie il prima di marco liguori con grande dispiacere ricordo il grande bassista chris cross scomparso a 71 anni amici youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video ciao a tutti